quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo bentornati a questa nuova puntata di risolto giallo in versione calcistica no non ho qui assolutamente due fan né tantomeno due calciatori ma ho due scrittori rappresentativi di due porte di milano ecco perché mi sembra di essere sul campo di san siro dalla parte degli ospiti il nostro amico giampaolo rossetti dalla parte dei padroni di casa il nostro amico mauro biagini due scrittori buongiorno buongiorno grazie buongiorno e grazie di avermi invitato era una promessa che ci eravamo fatti un anno fa e che finalmente manteniamo perché è uscita la nipote del re scusate sposto le dita altrimenti occulto questa figuretta femminile che adesso giampaolo ci dice che ha interpretato è laura ronza che è un'attrice teatrale e radiofonica laura noi ti salutiamo ti salutiamo perché sappiamo come mai non sei qui con noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti aspettiamo per la prossima volta però intanto ti abbiamo qui di spalle caro mauro giampaolo è arrivato al suo diciassettesimo romanzo no siamo al diciannovesimo perché ne è uscito uno circa appena prima di natale l'anno e non ce l'hai portato lo ha dato lo ha portato la vigilia di natale alle diciotto e trenta per essere precisi ecco allora male male perché non ce l'hai portato ma bene bene perché mi sembra un ottimo messaggio ben augurale no arrivare a 90 anni con 19 romanzi pubblicati ma è l'ultimo questo ma lo dici sempre lo dici sempre per fortuna non è mai vero allora giampaolo che ci puoi dire di questo ma la nipote del re può trarre in inganno il titolo tutti mi hanno detto ma la nipote del re come mai siccome io scrivo sempre sugli anni 30 30 ma no è una storia che ha l'humus nella verità è una signora che ha due parti in in commedia dice di essere fa finta di essere la nipote di un re non quel re italiano vittorio mondo il terzo ma il re d'albania invece non lo era aveva una doppia vita leggete il libro poi lo vedremo adesso sì adesso lei non è che se la cavi proprio così è cioè è venuto a presentarcelo poi è chiaro che con mauro approfitteremo della tua presenza per ben altre domande però qualcosina ce la devi dire ancora via di che re è intanto nipote è una bellissima storia almeno bellissima per me è bellissima questa è la seconda edizione abbiamo cambiato la copertina io ho scritto per murcia ho scritto per united ho scritto per la libreria del corso e adesso scrivo per la fiera del libro e allora hanno rieditato questo questo libro perché era finito e a me piace piace perché è sempre ambientato a milano ma sempre negli anni 30 quegli anni che chi li ha come me vissuti sia pure in modo relativo li sta dimenticando mentre i giovani non li conoscono che sappiano almeno come si viveva non è un libro politico questo è chiaro però scrivendo fatalmente degli anni 30 si inciampa sempre in qualcosa di politico come c'era una volta che c'era un regime quando i treni dicevano che arrivassero in orario ma anche non era vero quando in italia per decreto della minculpop non c'erano delitti non c'erano scandali non c'erano suicidi perché i suicidi voleva dire malessero i delitti non se ne parlava e lo scandalo bastava non dirne niente quindi l'italia era un paese meraviglioso si diceva ma in effetti non lo era ma io amo molto i romanzi gialli storici sto pensando poi al grande augusto de angelis che ambientava che si sta recentemente ripubblicato dalla nostra amica mariana che non è ancora venuta qui mariana perché per certi versi quello che a me colpisce e quanto soprattutto quando si parla di gialli c'è la curiosità di rivivere un periodo storico sempre dettagliatamente descritto ma c'è la sorpresa di vedere che poi fondamentalmente l'animo umano soprattutto quando si ha a che fare con i delitti non è cambiato più di tanto ecco volevo chiederti questo tu quando scrivi i tuoi libri ambientati negli anni 30 senti di scrivere un qualcosa che appartiene al passato o in qualche modo senti che questi personaggi e questa nipote del re potrebbe essere anche una donna dei nostri giorni giambattista vico diceva corsi e ricorsi storici non c'è niente di nuovo sotto il sole lo camuffavano prevengo i miei i miei gialli io li considero dei giallonioli perché sì ma veramente lo dico io perché non c'è violenza non mi piace ne ce n'è tanta nella vita non c'è sangue non c'è niente c'è c'è stato un delitto c'è stato chiuso bisogna trovare chi è stato ecco ma non lo faccio entrare pre in maniera preoccupante nel libro il libro dice c'è un giallo c'è un morto c'è un delitto vediamo chi è stato ecco dov'è la la io sono affezionato a questo genere beh che poi è diciamo il giallo vecchio stile il vero e proprio giallo poi è arrivato il noir comunque a proposito di corsi e ricorsi storici senza svelare alcunché della tua trama però una telefonata al procuratore del tribunale dei minori che si occupava di una giovane prostituta nella quale si diceva che fosse la nipote di un certo regnante dell'area dell'africa settentrino certo che l'ho letto ma mi è venuta in mente mi è venuta in mente quella storia vera nostra recente quindi è vero che non c'è nulla di diverso tra un'epoca e l'altra come osservi giustamente tu una nota che ho ritrovato con grande piacere in questo volume ritrovata perché era una nota che avevo enfatizzato anche nel precedente è il rapporto tra il commissario personaggio principale e la moglie moglie che viene sempre descritta come signora ada la signora ada e in questo più che negli altri il loro rapporto di coppia così suave così complice così fatto di piccole abitudini di mottetti lo descrivi è delicato benissimo delicato e c'è una frase in particolare che vi non vi leggo perché la sua memoria che vi porto perché io mi ci sono riconosciuta il commissario incontra la signora strada per strada lui sta tornando a casa lei evidentemente anche e si salutano non se l'aspettano no di incontrarsi e la gioia di essersi incontrati traspare dai loro volti poi tornano a casa a braccetto a me quando capita di incontrare Enrico e non me lo aspetto perché non abbiamo appuntamento io ho esattamente questa gioia di averlo incontrato ma che delicatezza complimenti la gioia di vivere è una la penna l'aspetto che io prediligo di voi scrittori non è soltanto quello di creare trame ma di tratteggiare anche gli aspetti affettivi e non solo psicologici dei vostri personaggi sono la cornice del quadro del quadro a me piace non so se l'hai notato il commissario io non l'ho mai descritto e non ha neanche un nome di battesimo è il commissario di mattino ognuno lo veda come vuole alto basso con i batti con la bar non mi non mi importa ognuno si deve fare per me mio nonno ognuno si deve fare l'ho detto anche l'altra volta sarà l'epoca ma io quando leggo certe pagine ricordo le foto di mio nonno un po corpulento con pochi capelli col bastone il borsalino io io lo vedo il palto non il cappotto il palto a te tutto tuo ma io ho un'altra curiosità visto che sei un autore così prolifico e comunque ambienti le tue storie in un quartiere ben preciso hai sentito nel corso del tempo dei limiti nel non uscire dal ticinese oppure per te è sempre stata una fonte di stimoli continui dunque ogni volta che ho cercato di uscire dal ticinese mi sono perso perché io mi sono perso perché io una volta tu mi avevi chiesto ma il tuo quartiere principale quello che hai nel cuore qual è e io ho detto oggi ieri sempre e continuerà ad esserlo il portati cinese io ho avuto una fortuna ho avuto due genitori di milano io sono nato a milano sposato una donna di milano i miei figli sono nati a milano quindi io sono inserito in milano ma soprattutto sono inserito a porta ticinese dove la conosco bene dove facevo il monello quando ero un bambino io e lo ero davvero veramente monello e allora non esco di lì non esco mi sembra di 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 perdermi no alcuni mi ha la stessa cosa per te ma io perché lui ambienta a porta a venezia ecco perché all'inizio abbiamo detto le due porte sono al quinto giallo quindi non sono ancora al diciannovesimo come te però mi rendo conto che visto che è importante scrivere di ciò che si conosce bene mi rendo conto di sentirmi perfettamente a mio agio proprio perché so di non dire castroneria insomma tutto ciò che racconto è ma uno deve raccontare ciò che è quello che sente io sono milanese benissimo ma sono di porta ticinese io sono ancora uno degli ultimi che usano il dialetto anche se a volte non mi capiscono perché adesso nei romanzi no nei romanzi forse qualche parola così che la poi la scrive la faccio scrivere in corsivo ma è difficile no no per quello no e siccome io lo ripeto oramai sono entrato nei 90 ho molti ricordi come tutte le persone che si ricordano quello che succedeva tanti anni fa e non si ricordano qualche ha mangiato ieri per me è così e poi comincio a perdere la memoria sia ben chiaro allora devo scrivere l'ultimo ho finito di scrivere sia ben chiaro perché l'ultimo è uscito un mese fa no 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 ma no ma si dice sempre così e poi vuole darsi al cinema vuole fare nuove esperienze no e non l'ho fatta la nuova esperienza il mio ultimo libro non è un giallo è è un romanzo ho provato diciamo così e ci ho messo cinque anni a scriverlo cinque anni tanto scrivevo altre cose ed è uscito e non so ancora come va perché me l'hanno consegnato la vigilia l'hanno consegnato all'editore la vigilia di natale ma sembra molto ben augurale mister scrooge non lo so io ha saltato natale però mi hai anticipato proprio una domanda visto che poi ora hai scritto anche un romanzo non giallo da cosa nasce la tua passione per il genere giallo nel momento in cui per esempio Crapanzano Dario Crapanzano che scriveva della Porta Venezia anni 50 lui asseriva che in verità lui voleva raccontare la Porta Venezia anni 50 dopodiché ha deciso di farla in maniera attuale con il giallo e in maniera molto da marketing diceva perché il giallo comunque probabilmente mi dava più possibilità di essere pubblicato però lui asseriva dopo di aver iniziato a scrivere per raccontare la Porta Venezia degli anni 50 tu hai iniziato a parlare del tuo quartiere e perché lo hai scelto nella forma del giallo perché perché il giallo a Porta Ticinele era di casa era di casa c'era tanta brava gente ma c'erano anche dei balordi una coltellata ogni tanto non la si negava nessuno solo che i momenti erano un po' pizzi sempre e allora ho visto ho sentito ho ascoltato e mi sono messo a fare questo il primo il primo giallo che ho fatto l'ho fatto per la Mursia è avuto successo devo dire no ma era proprio ambientato a Porta Ticinese siccome poi sono andato a scrivere per la libreria del corso che era un complesso di otto librerie tutti si chiamavano libreria del corso quella di corso Buenos Aires eccetera 22 marzo esatto e la libreria era bellissima una libreria di cinque di cinque vetrine in corso San Gottardo dove io sono conosciuto e lì c'è stato un successo effettivamente perché la gente a volte si ricordava eh ma mi ricordi che il fatto lì o eh madre boh ma come ti fai ricorda se eh sono gli anni di Noè e quindi di conseguenza me lo ricordo perché ci sono ancora delle persone che si ricordano i certi fatti e io ho continuato ho continuato anche perché poi con un po' di fantasia ci vuol poco eh ci vuol poco c'è un fatto gli si fa il coroncino attorno ed è questo il giallo insomma ecco. Ho un'altra domanda posso Alessia? Devi! E nei tuoi romanzi si riconoscono personaggi reali del tuo quartiere? Dunque i personaggi reali ci sono ovviamente ho dovuto cambiare nome ho dovuto cambiare qualcosa ci ho aggiunto ci ho tolto perché sennò qui mi mettevano a San Vittore non mi buttavano via le chiavi. E non c'è neanche un corso lì è una piazza non è neanche un corso quello di San Vittore ma è una piazza quindi non andava bene. Comunque comunque sì effettivamente c'è sempre una un aggancio alla realtà c'è sempre poi dopo ci sono i voli pindarici ammesso che si possa chiamare così che 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 escono esulano dal dal contesto tutto qui però effettivamente l'ottanta settanta ottanta per cento se vogliamo percentualizzare è la realtà assoluta anzi dirò di più che alcuni come ad esempio il primo prima abbiamo parlato il mio caso lagana è successo dove abitavo io c'è un altro fatto la mia vicina di casa mia mia vicina di casa allora se stava us a us no sulle ringhiere e ha avuto un grosso problema io l'ho captato l'ho messo dentro eccetera sì sì io vado pescare la realtà poi naturalmente ci si mette un po dell'altro perché però è molto bello l'aggancio storico che che lui fa e che per generazioni che tra l'altro questo periodo storico l'hanno anche studiato male perché per esempio io che ho studiato al liceo classico probabilmente le guerre puniche ve le racconto anche al contrario ma del regime fascista perché poi sono molto poco piano piano non ci si arriva quasi esatto probabilmente per questo poi non esce storia quindi magari gli ultimi tre mesi la storia la lasci perdere perché non è una materia d'esame fatto sta che qui leggere per esempio questa dimmi dov'è l'accento stefani o stefani chi chi è l'agenzia di regime che stefani stefani la censura di fatto chiamiamola così si passava solo dalla stefani ecco questa è bello del ma il bello lui la cita spesso e proprio andare a ritrovare una quotidianità che magari nei libri di storia non non si ritrova faccio posso una domanda tu l'hai vissuto in che anno segnato posso chiedertelo no io non ho vissuto ecco vedi vedi in molti mi chiedono ma era veramente così perché un po lo specchio dei tempi no bisognava stare attenti come si parlava bisogna stare attenti a fare eccetera noi avremmo non avremmo potuto essere qui tranquillamente a parlare perché c'era sempre qualcuno che ascoltava che ti diceva poi sapete che bisognava usare il voi ma il lei le parole straniere erano state bandite bar bar era diventata qsb qui si beve cose da non credere modernissimo cose che non si no no ma certo il cognac era diventato arzente ripeto arzente cosa c'entravano non ecco avevano avevano cambiato tutte le parole insomma ecco però poi nel chiuso delle case nel privato io avevo un padre socialista quando si riuniva con i suoi fratelli o con i fratelli di mia madre mi mandava in cortile la mia mamma giocare perché non sentissi quel che si diceva no e me ma va 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 eccetera e io ti dirò una cosa io ero l'unico della classe a non avere la divisa di figlio della lupa avevo una mia una maestra si chiamava piacentini era una fascistona veniva sempre in divisa un giorno sì un giorno era in divisa allora si diceva domani tutti i bambini in divisa da figlio della lupa da bambino a 5 6 anni io ci tenevo certo per i bambini si omologano e io no non ce l'avevo eravamo in due veramente in classe e ci mandavano in un'aula con la bidella che ci leggeva qualcosa per tenerci per tenerci contenti ma perché questo perché c'era una una visita ufficiale ma per qualsiasi motivo il regime aveva messo in divisa anche i commessi aveva messo in divisa i quelli che curano i bambini come si chiamano i i bidelli i bidelli aveva la divisa il custode aveva una divisa diversa con su un affare così ma si davano importanza tu andavi in comune al di là dello sportello c'era l'impiegato in divisa ma senti giampaolo questo eia eia alala che cos'era a non si è mai saputo c'era tutta una liturgia tu entrati in un ufficio dovevi fare tot passi e fermarti c'era il segno davanti alla scrivania del potente che ti guardava dall'alto in basso con la sua camicia nera doppio petto con camicia nera incorporata e ti guardavano saluto al duce nel fondatore dell'impero a noi tanto non è reato la cassazione l'ha detto anche recentemente che non è reato no ma è vero ma era così tu c'era una liturgia c'era proprio tutto un sistema che tutti che tutti lo dovevano osservare osservare io non avevo la divisa la mia mamma è stata chiamata ma perché lei non ha della divisa di suo figlio e lei ha detto beh perché non me lo posso permettere allora come famiglia disagiata gli hanno fatto il buono per avere la divisa che erano pantaloncini corti e grigio verde e una camicetta nera con le bande con scritto m che la mia nonna quando mi ha visto mi ha detto ma che lei mi lì cosa vuol dire milano hanno detto milano ma forse pensava comunque tu giampaolo quest'area socialista me l'hai messa anche dentro a De Martino il tuo personaggio tutti questi liturgie come le chiami tu le evita tutte ma c'era sotto sotto c'erano era difficile doverne parlare c'erano i provocatori e signori sul tram c'era quello che ti veniva vicino si cominciava a parlare se tu abboccavi poi avevi dei guai c'erano i provocatori sia ben chiaro questi io me le ricordo se li ho fissi sulla mia pelle ho visto delle cose tremende non voglio mai parlare di politica ma parlando degli altri degli anni 30 fatalmente devo ambientare perché queste cose avvenivano avvenivano signori ed è molto divertente il fatto che tu comunque il tuo personaggio lo fai comprendere benissimo che è contrario al regime e quando incontra quelli che lo sono come lui lo capiscono l'un l'altro proprio dal fatto che si danno la mano per esempio e non si poteva come sono abbigliati come se fosse un codice morse no non parlato eloquentissimo prima di parlare prima di dovevi capire la persona perché non tutti poi bisognava capire la persona conoscerla allora piano piano perché c'è sempre al telefono c'era sempre qualcuno che ascoltava eh sì no non era facile vivere tutto questo nei tuoi romanzi si vive cioè questa angoscia si è bravo si vive questa angoscia si vive perché tutti hanno l'angoscia signori la guerra non la voleva nessuno ma l'hanno imposta ci hanno fatto credere che noi eravamo una stirpe di eroi noi avevamo otto milioni di baionette poi ci siamo accorti che gli altri avevano otto milioni di cannoni e la cosa un po' diversa noi siamo portati in guerra e non la voleva nessuno non la voleva nessuno le guerre non le vuole mai nessuno ma sono diecimila anni che le fanno ugualmente io sono stato un po' magari un volevo essere anche un po' lo specchio dei tempi ma non voglio essere politico era solamente far capire come si viveva allora poi di politica io ne voglio parlare per carità di dio ma direbbe altro bene non lo farà il prossimo libro perché ci sarà un prossimo libro sarà un giallo perché noi non possiamo rimanere così senza De Martino e la signora Ada io ho già deciso con le mie amiche ma ve lo mi piace io ordinerò il carcadè perché all'epoca dovevano bere il carcadè che arrivava dalle colonie per il prossimo libro ma ti dirò di più che questo cookie ci c'è veramente un bellissimo e noi passavamo sempre io sarò andato dentro tre quattro volte nella mia vita sia nonno e il proprietario era un tipo inglese veramente un gentleman inglese era lì alla cassa e io non lo conoscevo allora un giorno sono andato lì a bere qualcosa poi quando sono andato a pagare gli ho detto ma sa che ho letto un libro che parlava di cookie per sentire e lui mi ha detto ma sa che me l'hanno detto in tanti ma non so voglio vederlo anch'io ma l'ho letto allora sa sono passato lì qui ho visto cookie e sono venuto dentro e anch'io lo vorrei sapere ma ogni tanto c'è qualcuno che mi dice ma sa che ho trovato il cookie su un libro e non gliel'hai svelato mai 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 signor cookie se vede la puntata no ma non c'è più penso che non ci sia più perché si chiama sempre cookie ma non credo che sia ancora la stessa una maniera c'è per scoprirlo andiamo tutti lì venite anche noi voi insieme a noi che abbiamo detto che sarà il pomeriggio della signora ada ordiniamo al carcadè ma vogliamo vedere se ci arrivano le alzatine con le cosine da mangiare perché lui lo dice bene arrivavano le alzatine ve le ricordate quelle della nonna a varie piani quando c'erano perché dopo non c'è stato più niente perché il caffè dopo sapete con cosa lo facevano con le fave sì erano qualcosa che era lontanissimo cicoria fave e qualcosa di tritato e non lo beveva più nessuno se era caldo era nero caldo tant'è vero che la gente guardate la gente si abitua per c'è un mio amico che mi diceva sempre l'uomo un animale socievole e per gradi si abitua a tutto allora c'erano le persone che andavano al cucchia a bere il caffè e il caffè quello lo chiamavano caffè caffè per quando uno diceva il caffè andiamo a bere il caffè ma ce l'ho a casa io ma caffè caffè raddoppiavano per far capire che era veramente come ad esempio la cosa più ambita era il pane bianco adesso il pane bianco non lo mangia più nessuno perché dicono che con le ci sono dentro le sostanze che lo fa diventare sono più buono quando è bruno ma una volta il pane bianco quello lì c'ha il pane bianco ma come fa e su su no guardi che io queste cose non è che siano il centro del libro centro del libro è sempre il delitto però mi fa piacere raccontarle perché quelli che non le hanno vissute le sappiano scoprirle leggerle vedete ci sono dei giovani i giovani io amo i giovani perché sono il nostro avvenire eccetera che vanno in giro a gridare vogliamo la libertà ma nel momento in cui tu gridi che vuoi la libertà perché la libertà di gridare ce l'hai per una volta tutti silenzio coperti allineati sapete che una una mattina tutti gli universitari che erano tutti iscritti d'ufficio al GUF gruppo unitario fascista si sono svegliati la mattina e si sono trovati tutti volontari tutti volontari ecco tanto per dire e non potevi dire niente poi c'era gente bravissima che ci credeva c'erano quelli pnf partito nazionale fascista se non avevi quel quella tessera tu non potevi andare alle poste alle ferrovie nella scuola nell'esercito non potevi andare da nessuna parte la chiamavano la tessera del pane interidione quel pnf lì sapete l'acronimo chiamavano per non faticare pnf e a milano invece era per necessità familiari perché se non avevi la tessera non ti prendevano alla tm non so un po po i posti non ti prendevano c'era ti obbligavano ad avere ad avere ad ad aderire ma quanti hanno dovuto aderire per per necessità familiari noi qua con rossetti staremmo veramente ore e ore e ore perché è un uomo molto arguto una memoria storica insostituibile e un ottimo scrittore vi ricordo la nipote del re bellissima lettura con la bellissima laura in copertina do appuntamento a tutti alla prossima puntata a mauro appena vuoi torna e a rossetti al prossimo anno col prossimo romanzo non dica di no a rossetti che in diretta ciao a tutti ciao a tutti e grazie di nuovo quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo